Oggi ho un quiz per voi. Cosa mangiavano a colazione gli dèi dell'Olimpo? Eh, non lo so, durante le lezioni di storia antica scrivevo bigliettini d'amore al mio compagno di banco. Mangiavano l'avena divina. Ma cosa dici? Non esiste! Invece sì, ed è buonissima! Ciao amici! Devo dirvi la verità, l'avena divina esiste davvero, ma non l'ho fatta io. L'hanno inventata gli amici della Isvary, l'azienda di prodotti sani e naturali che io adoro. Senza zucchero, senza lattosio, solo ingredienti sanissimi. L'avena divina è perfetta perché puoi fare una colazione facile e velocissimamente. È anche nutriente, è golosa, cremosa, soddisfacente ed è adatta a tutti. Mission impossible, eh? Solo è il meglio per voi. Per me è importante. La Isvary, che sponsorizza questo video, mi ha spedito un pacco con l'avena divina, che è divina nel gusto e nelle proprietà nutritive. È un porridge di avena istantaneo, velocissimo e divino, davvero nel gusto e nei nutrienti. Volete sapere come si prepara e quali sono i benefici? Va bene, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Eccola qui! Trovate l'avena divina Isvary in due gusti. Nocciole, cacao e arachidi e banana. Rispetto al classico porridge è golosissima, è più completa, più saporita e ha il vantaggio di essere istantanea. Istantanea. Ma il porridge non deve cuocere, cuocere? Beh, c'è un trucco speciale e si chiama crudismo. Tutti i prodotti Isvary sono crudisti, cioè lavorati senza cottura. E possiamo mangiarli senza doverli cuocere di nuovo. Hanno tutti i nutrienti intatti e sono molto più digeribili. Con l'avena divina possiamo fare un porridge cremoso e goloso subito pronto o uno yogurt con i super poteri. Io il porridge di avena divina lo preparo così. Metto 4 cucchiai di avena divina in una ciotola e poi aggiungo circa 90 ml di latte vegetale. Riso, avena, mandorla, cocco, senza zucchero mi raccomando, non serve. Per fare uno yogurt super speciale metto due cucchiai di avena divina in un barattolino da 125 grammi di yogurt bianco naturale o vegetale. Mmm, goloso! Adesso te lo rubo! Ma, vabbè, dai, mangia che ti fa bene. Ecco i benefici. L'avena è ipoglicemica, nutriente e mineralizzante. Regola il colesterolo e la glicemia nel sangue. Contiene fibre che aiutano l'intestino e danno un senso di sazietà a lungo. L'avena divina Isvari non è solo avena, contiene anche grano saraceno, semi di lino, semi di chia. E per renderla divina ci sono il cacao e le nocciole o il burro di arachidi e la banana. Questo mix assicura una colazione completa perché ci sono tutti i nutrienti. Carboidrati complessi a lento rilascio, grassi buoni, in particolare omega 3, vitamine, minerali e proteine vegetali. Per questo è la soluzione vincente per una colazione facile, velocissima, nutriente e golosa. Da quando l'ho provata io l'adoro, non vedo l'ora di alzarmi per fare colazione. Sono solo indecisa. Nocciole cacao o arachidi e banana? Arachidi e banana mi sembrava all'inizio una colazione un po' strana invece è buonissima. Sapete come faccio? Io scelgo in base all'umore del mattino e non mi pento mai. Come sempre per voi amici c'è uno sconto speciale del 10% su tutti i prodotti Isvery usando il mio codice sconto SIMO10. Non potete sbagliare. E sto preparando altri video su tutte le migliori e più sane colazioni. Quindi per vederli tutti iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche così YouTube vi avvisa direttamente. E poi per sostenere il mio lavoro di divulgazione e diventare amici, trendy e sani anche voi, abbonatevi al canale. Condividete il video di oggi perché tante persone cercano una soluzione sana e veloce per la loro colazione. Con questi consigli possiamo davvero fare la differenza nella giornata di molte persone. Non è una bella sensazione questa? E noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, ma sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Golosa! No, goloso. Goloso. Io lisce... Io lisce... Aggiungo. No.